Si sono presentate in questura per sporgere denuncia contro i gnoti le famiglie dei ragazzini aggrediti e rapinati lo scorso fine settimana nel cuore della città di Arezzo. Adesso spetterà la polizia a risalire l'identità dei componenti della baby gang. Almeno due gli episodi che si sono verificati nella stessa serata, il primo alle 22.30, quando i tre ragazzi, apparentemente ancora minorenni, hanno accerchiato un gruppo di ragazzini obbligandoli anche con la forza a farsi consegnare un giubbotto sportivo, una felpa e delle scarpette. Uno dei giovanissimi rimasto in maniche cortescalzo ha chiamato il padre che è subito a corso assieme ad un altro genitore che era in macchina poco lontano ad aspettarli. I tre rapinatori però si erano già dileguati con il loro bottino. Poco dopo un secondo episodio sotto i portici di via Roma, anche in questo caso un ragazzino ha rapinato del giubbotto. Probabilmente la solita baby gang, visto che uno di loro aveva ancora in mano le scarpette rubate mezz'ora prima e in corso Italia. Quelli avvenuti nel fine settimana sono solamente gli ultimi episodi di una lunga serie di aggressioni e rapine consumate nel centro cittadino. Solamente pochi giorni fa la polizia aveva arrestato un giovane per una rapina con tanto di coltello avvenuta vicino ai giardini del Porcinai.